Si chiama Alice Vasquez, è una donna della California e sta letteralmente facendo impassire il web grazie alle sue foto davvero molto sensazionali, sexy a livelli stellari Pensate infatti che è diventata la nonna, e ripeto la nonna, più sexy del mondo e sta spopolando su Instagram Si considera, pensate, una donna meglio delle ventenni di oggi Non ha probabilmente gli stessi followers di una ventenne effettivamente, però dimostra che ha davvero tanta sensualità e bellezza Di lavoro fare insegnante di yoga a 40 anni è diventata nonna da soli, cioè due anni fa Di tempo e mamma della sua primogenita quando aveva solo 16 anni La figlia invece è diventata mamma di una bimba a 22 anni di età Un fisico davvero dal capogiro, oltre al fascino, oltre alla sensualità Un corpo davvero da premiare da Nobel, ma anche un bel cervello Più di 31.000 follower che ovviamente la apprezzano in toto e che lasciano commenti, mi piace e ovviamente emozioni per lei Bene, complimenti dunque a Alice Vasquez O Vasquez, il video termina qua Iscrivetevi se vi va, commentate Al prossimo video dal vostro narratore italiano Complimenti a Alice Grazie